Per la prima volta a Fano verrà ospitata un'esibizione canina a livello nazionale. Si svolgerà infatti sabato 26 e domenica 27 agosto presso il Codma di Rosciano di Fano la mostra nazionale canina organizzata dal Club Cinofilo Provinciale, delegazione Enci di Pesera e Urbino. Abbiamo scelto Fano per due situazioni, soprattutto perché la grande collaborazione che c'è oramai fra noi e il comune di Fano, inteso anche come comune proprio dal punto di vista stettamente tecnico. La seconda perché la location del Codma è una location perfetta per un'esposizione estiva all'aperto in quanto è all'aperto ma non è all'aperto perché è coperta, è un luogo fresco, ventilato, ci si sta bene e abbiamo trovato una grande collaborazione della cooperativa Tre Punti e della protezione civile che ci aiuterà a svolgere al meglio questa cosa. Sono già più di 300 i cani iscritti all'esposizione di bellezza con oltre 90 razze diverse che si vedranno protagonisti in numerose attività organizzate nelle due giornate. Poi Enci organizza due momenti importanti, uno è un'esposizione di bellezza e se alcune famiglie volessero vedere delle razze di cani questa è l'occasione giusta per vedere le razze pure. Poi ci sarà un'altra prova che è denominata CAE che è un binomio padrone cane, conduttore cane dove ci sarà l'esibizione di come i cani sono dei bravi cittadini e una risposta del nostro territorio alle tante associazioni che fanno questo lavoro di addestramento cani anche a Fano. Grazie a tutti!